team accelera con la banda ultra larga fino a mille mega e lancia a bari la connessione super veloce grazie alla nuova rete ftth fiber to the home che sta realizzando in città a partire da ieri è detto in una nota i clienti team potranno sperimentare senza costi aggiuntivi l'ultra internet fino a mille megabit al secondo in download e 100 megabit in upload i collegamenti sono già disponibili in circa 7.000 unità immobiliari di bari nei rioni murà madonella iapigia che diventeranno oltre 97.500 a completamento del piano previsto per fine 2018 si tratta della più alta velocità di connessione su un collegamento in fibra mai raggiunta in italia a livello residenziale disponibile grazie ad una sperimentazione live della durata di sei mesi bari fa parte del piano nazionale di team per il cablaggio in tecnologia ftth che prevede di raggiungere oltre 3,5 milioni di abitazioni entro il 2018 ma intercettivo ma intercettivo la colleriggia wonta ma intercettivo e vac ظedto